L'Airfonia è un progetto che nasce dalla mia passione praticata ormai da più di un decennio per la trasformazione di rumori e ambienti sonori in musica. Ho incominciato nel 2011 con la Biennale di Venezia, trasformando in musica una fornace del vetro di Murano utilizzando anche altri strumenti. Successivamente mi sono dedicato a far scomparire gli altri strumenti e a ricavare tutto quello che serviva per creare ritmi, ma anche melodie, riff, tessiture armoniche dai rumori. Durante la pandemia, per via di una serie di vicissitudini, ho lavorato senza neanche sapere quello che stessi facendo dopo ho capito che in realtà poteva diventare anche un album, sui suoni della natura. Su tutta una serie di esperimenti che si sono poi articolati in forma di album che è uscito allegato ad un libro scritto con Mario Tozzi, il celebre geologo e divulgatore scientifico, il quale mi ha anche regalato i rumori di una eruzione dello Stromboli dicendomi che stai facendo un gran lavoro, è stato molto incoraggiato ma anche intimidatorio, cioè non pensare però di portare a casa un album sui suoni della terra in assenza dei vulcani che sono il ritmo stesso della terra. Quindi tutto questo per dire che la prima fase di Arfonia aveva a che fare con la natura in un momento particolare, pieno di una crisi climatica, che ha avuto dei collaboratori come Mario Tozzi, Stefano Mancuso, Michelangelo Pistoletto, Maria Sole Bianco, eccetera, 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 ma questa sera nella fattispecie a Sherwood porterò il secondo episodio di questo concept di Arfonia che invece ha a che fare con i suoni delle città. Cioè partiremo dai suoni dell'aria degli uccelli, partiremo dalle api, ma finiremo in una stazione della metro di Milano attraverso un percorso che inizialmente sarà un po' immersivo ma poi cercherà di spingere molto dal movimento, sarà molto da ballare perché Urban Groovescapes, l'album che trasforma in musica il suono del quotidiano, il rumore urbano, è un album a vocazione dance. Prima di arrivare alla canzone, prima di arrivare alle band, avevo già intrapreso un percorso di compositore un po' in solitaria. Ero molto affascinato dalle figure. La mia stella polare, insomma dei miei vent'anni, era Brian Nino, tuttora voglio dire, è un bellissimo punto di riferimento. Però avevo smesso molto presto di voler diventare un guitar hero dal cappello lungo e dal fraseggio esplosivo per invece dedicarmi a quel lavoro di studio misterioso che si vede e non si vede, ma che all'interno di determinati album, anche in sede di produzione, riesce a dare una dimensione in più alla musica. Questa cosa è avvenuta in un luogo dove io tra l'altro lavoravo anche facendo il garzone durante il giorno. Era una specie di studio cinematografico molto artigianale che aveva messo in piedi mio padre con i suoi amici. E io durante il giorno con il mio camice bianco sbottavo posa ceneri, affittavo il parco lampade, facevo l'aiuto elettricista. Poi quando mancava, quando serviva una musica venivo promosso sul campo maestro compositore. E tutto questo avveniva nella sala doppiaggi di questo studio cinematografico molto naif. e piano piano questa saletta doppiaggi ha preso tutta una sua vita, è diventata poi la casa sonica dove sono nati i subsonica, cioè in Piazza Vittorio. E diciamo la storia di quel luogo ha preso un'altra strada. Premettendo che l'ambizione è quella di condurre gli ascoltatori, gli spettatori in un viaggio abbastanza inedito, nel senso che tutto ciò di cui, che ascolteremo questa sera, non prevede da nessuno strumento musicale, ma solo da suoni della natura e suoni della città processati digitalmente, campionati, processati attraverso campionatori granulari. Ovviamente mi dovrò avvalere di una strumentazione prevalentemente elettronica. Avrò una tastiera USB con la quale suonerò i riff principali dei brani, che saranno invece, diciamo così, le basi poi andranno sui vari programmi software come Logic, come Tractor, eccetera, eccetera. La musica credo che non sia solo per me, ma per molti musicisti, è proprio una questione di equilibrio, non può venire a mancare se no crollato tutto il resto. Quindi siamo nel campo delle necessità. Quindi questa cosa non si può fermare al rapporto con la musica, perché verrebbe a mancare un elemento fondamentale, proprio della vita, del mio equilibrio, del mio stare al mondo, del mio relazionarmi con il mondo. Il fatto di provare a rilanciare sempre, quindi in qualche modo di rischiare, ma se devo trovare una formula esplicativa direi di imparare per disimparare. È una modalità che mi sono dato anche per cercare di continuare a stimolare quell'approccio alla musica sempre molto vitale e mai cercando di evitare di tornare su formule, su consuetudini, su formule già acquisite, perché una delle cose più importanti che succedono, le cose più importanti che succedono nella musica succedono quando c'erano le prime volte. Cercare di ripristinare un po' quella sensazione da prima volta, anche un po' quel rimettersi in gioco completamente, quel rischiare, non ci sono altri termini che lo spieghino meglio, è un prerequisito fondamentale per pensare di lasciare una traccia di autenticità, ma soprattutto dopo 35 anni di musica di continuare a cercare di lasciarla. Sempre e comunque quando c'è stato un contatto diretto fra il fatto di fare musica e il fatto di fruirne, cioè quindi prevalentemente nella condizione nella quale mi troverò fra neanche un'ora, cioè sul palco. E questo risponde anche a tutta una serie di questioni relative all'indipendenza, discografica o non discografica. Quando un artista riesce a creare un rapporto con un pubblico, in qualche modo riesce anche a sostenere la propria musica senza avere eccessivamente bisogno di intermediari. Questo è un legame che noi abbiamo cercato, ne parlo come subsonica, anche a metà degli anni 90 quando siamo nati, quando c'era ancora una discografia, cioè si vendevano ancora i dischi. Diciamo c'era ancora quella chimera, quella voglia di… no, quella voglia. C'era ancora l'illusione di potersi affidare alle mani di un produttore discografico, di una casa discografica e pensare di poter vivere in qualche modo di rendita perché inseriti in un roster o perché supportati da una dimanica promozionale di un certo tipo, anche in quel caso non era vero. Cioè i gruppi che ce la facevano in qualche modo, che poi tendenzialmente molti di questi sono ancora oggi in attività a distanza di quasi più di 30 anni, erano i gruppi che hanno cercato un rapporto diretto, una credibilità sul palco, una relazione live con il proprio pubblico. Quindi la costante, ma devo dire anche se vuoi come direttore di festival, in qualche modo aveva a che fare sempre con la musica fatta fra il palco, con quella relazione intima fra palco e audience in un'altra veste, però era sempre quello, è sempre stato quello il momento. Anche se come ripeto io nasco in studio di registrazione e ieri sera a mezzanotte ero ancora attaccato al mixer per il disco di Subsonica, sono due modalità diverse, però se parliamo di indipendenza si deve passare dal live, dalla performance, dal fatto di avere delle persone di fronte con le quali devi instaurare un rapporto.